Stavolta un abbinamento alquanto insolito, però... Capita, capita, capita. Ho comprato l'ultimo numero della serie regolare di Nathan Never, di cui tutti gli youtuber di fumetti ne stanno parlando da Dio, numero 394, dal titolo L'essenza dell'infinito. Oh, già il titolo è... Questa copertina molto psichedelica, o se vogliamo, sì, astratta. Più che psichedelica. Storia scritta da Davide Rigamonti, che se non sbaglio era uno di quelli che scriveva anche la serie, quella del ritorno di Nick Rider, e Mario disegnata da Mario Gianni. Gianni, devo dire, ha un tratto molto... Sì, 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 sì. Molto interessante. Sì, 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 sì. E come storia mi sembra davvero interessante. Sì, 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 quindi... Io diciamo che Nathan Never era da... Dai tempi della trilogia di Scrotos. Sì, penso... Se non un anno... Sette, otto mesi buoni, sì, che non ho comprato più un cappio, perché dopo quella delusione, la mamma mia, guarda, dopo la trilogia di Scrotos, ho detto, basta, prendiamoci un po' di pausa adesso, Nathan Never. Eh, però, questa sembra l'occasione giusta per riavvicinarci al musone della Bonelli. E in più ho trovato i cioccolatini ripieni al room col facciole di Buddy Spencer. Eh? Eh? Ve l'avevo detto che era un abbinamento insolito. Eh, vi avevo avvisati, eh? Eh, 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 eh. Grazie. Grazie.